Martedì 5 aprile a Palazzo Ferrero verrà presentato il progetto di recupero ambientale e pesagistico della strada Trossi, un progetto che è stato affidato allo studio Land dell'architetto Andrea Schipar della Fondazione Biellezza. L'arteria è quella compresa tra l'uscita del casello autostradale di Carizio e le porte della città di Biella, un percorso seguito da chi viene in visita nel nostro territorio. Siamo tutti consapevoli che questa strada presenta una skyline eccezionale, si legge nel comunicato diffuso. Le prealpi, il Monte Rosa e i contrasti con la pianura ne rappresentano i punti di forza, ma siamo anche coscienti di come questo tratto stradale necessiti di una ricucitura paesagistica al fine di presentarsi attrattivo e meglio accogliere i visitatori. La visione di riqualificazione della Trossi nasce proprio dalla volontà della Fondazione Biellezza di contribuire con la provincia e i 12 comuni dell'asse stradale ad un progetto che tenga in considerazione gli aspetti viabilistici integrati ad un più ampio discorso sul paesaggio e sui territori che la strada attraversa. Immaginare la strada e ripensarla come un luogo di ricomposizione e di relazione fra le persone e la natura è stato questo l'oggetto del lavoro affidato all'architetto Kiper e ai suoi collaboratori, uno studio proprio di progettazione paesagistica. L'incontro di martedì 5 aprile è aperto al pubblico.